Puniti da due episodi e arrivederci Europa. Dopo lo 0-1 dell'andata, la Sampdoria esce con un'altra sconfitta dal campo del Metalist e saluta a suo malgrado l'accesso agli ottavi di Coppa UEFA. Stavolta finisce 2-0, ma il risultato non deve ingannare. Nel gelo di Kharkiv i Brucerchiatis la sono giocata fino in fondo, con voglia e impegno, uscendo a terza alta da un incontro già in salita e resa ancora più complicato dal vantaggio ucraino di Valiev, poco dopo la mezz'ora. Eppure il Doria, ritrovato Campagnaro in difese col duo Bellucci Marilungo davanti, aveva sin dall'inizio impensierito i padroni di casa. Prima con lo stesso giovane attaccante al termine di un'azione personale, poi con De Sena e infine con Da Costa, alla prima da titolare vicino al gol di testa su punizione mancina di Ziegler. Come detto, dopo l'1-0 del Metalist, tutto si è fatto più difficile e la beffarda punizione di Jackson, in chiusura di prima frazione, ha mandato di fatto agli archivi il discorso qualificazione. Ci ha pensato ancora Marilungo a tentare perlomeno di riaprirlo nella ripresa, ma senza fortuna. Peccato per lui, peccato per il Doria, arrivata al capolinea di questa Coppa UEFA 2008-2009. Un'esperienza chiusa sul più bello e forse troppo presto. Un'esperienza tutto sommato positiva e impreziosita dal successo sul Siviglia. È un Walter Mazzarri dispiaciuto ma soddisfatto quello che si presenta davanti a microfoni Taccuini subito dopo la sconfitta col Metalist. In Ucraina è arrivato senza Palombo, senza Cassane, con la voglia di ribaltare il risultato dell'andata. Il mister di San Vincenzo non è riuscito nel suo intento, ma sulla prestazione di ieri sera ha poco o nulla da recriminare. Purtroppo l'unico neo in fase difensiva è stato, di là che sono bravissimi nel palleggio, nell'1-2 così svelto, sono stati bravi, si è visto anche all'andata. E lì quando abbiamo preso quel gol lì effettivamente la qualificazione era difficile, ma addirittura sembrava quasi impossibile. Poi il secondo gol venuto da 40 metri con questa grande punizione ha chiuso i giochi da quel punto di vista. Però ecco, la squadra mi è piaciuta sia prima dei due gol che dopo. Non è stata fortunata perché abbiamo avuto anche noi delle palle gol importanti, soprattutto nel finale, ci abbiamo sempre creduto, volevamo in un campo così difficile onorare fino all'ultimo questa competizione. E siamo stati, come avete visto, anche sfortunati a non aver fatto un gol o due, come meritavamo secondo me. A Corso, dato l'anima, ci ha provato fino all'ultimo. Guido Marilungo però non ce l'ha fatta bagnare con un gol la prima da titolare in Europa. Lo avrebbe meritato il fresco golden boy dell'ultimo viareggio, il quale, prima di riprendere il volo verso l'Italia, esprime la sua soddisfazione personale mista al dispiacere per l'eliminazione. E' bello l'esordio ma abbiamo perso 2-0, sono state qualche occasione, potevo anche far gol, peccato. Abbiamo fatto una bella partita e il risultato ci sta male, è un brutto risultato ma meritavamo di più sicuramente. C'è amarezza perché se volevamo passare il turno ce l'abbiamo messa tutta e non ce l'abbiamo fatta, volevamo andare avanti e quindi l'amarezza c'è. C'è amarezza anche nelle parole dell'altro centravanti, Claudio Bellucci. Il capitano della gelida e sfortunata serata di ieri sera non nasconde il suo rammarico per l'uscita di scena europea e fissa nella Coppa Italia il nuovo obiettivo stagionale blucerchiato. Abbiamo lottato fino all'ultimo secondo, è un peccato perché abbiamo preso due gol, insomma un po' così, non meritavamo di perdere a mio avviso. Abbiamo dato tutto, questo era l'importante, ci abbiamo provato e niente, penso che usciamo a testa alta, almeno abbiamo salvato il salvabile. Adesso abbiamo una partita molto, molto importante, dobbiamo dare continuità ai risultati, poi abbiamo una partita decisiva per la nostra stagione, visto che incontriamo l'Inter e vogliamo andare in finale di Coppa Italia. Fallita l'impresa europea, la Sampdoria si rituffa in campionato. La squadra blucerchiata, ripartita subito dopo la gara di Kharkiv e giunta a Genova nella notte, si è ritrovata questo pomeriggio al Mugnaini di Bogliasco per riprendere la preparazione. Domenica a Marassi arriva un Milan ferito, eliminata a sua volta dalla UEFA per mano dei tedeschi del Werder Brema e subito smagnoso di rifarsi. Toccherà il fiorentino Rocchi arbitrare una sfida tra deluse di Coppa, sfida che Mazzarri potrà finalmente giocarsi con un organico quasi al gran completo. Abbondanza insolita soprattutto nel reparto difensivo, dove in sette si giocano tre maglie da titolari, mentre in attacco mancherà Bellucci, squalificato per un turno dal giudice sportivo. Durante la seduta di oggi, discarico per quelli scesi in campo nel gelo ucraino, a parte si è allenato il solo del vecchio. Continua a buon ritmo la vendita dei biglietti per la doppia sfida di domenica e mercoledì contro Milan e Inter, per l'incontro con i rossoneri tagliando in vendita presso il Sampdoria Point di via Cesarea, la Federclaps di via Casata Centuriona, e le rivendite autorizzate all'automatica. Stessi canali per il match con i razzurri, con l'aggiunta del circuito online listticket.it. In occasione della semifinale di Team Cup contro la corazzata Inter, per quella che è già stata ribattezzata la partita dell'anno, si preannuncia il Ferrari su un'atmosfera da brividi. Per venire incontro ai propri sostenitori, e non far mancare l'apporto di Marassi nell'appuntamento forse più importante della stagione, la società ha scelto prezzi molto popolari. Si va dai 30 euro della tribuna inferiore ai 10 delle gradinate del settore ospiti, passando per i 15 dei distinti e della tribuna superiore. Chiudiamo con la primavera di Fulvio Pea, che domenica mattina, nel posticipo della diciottesima giornata, avrà subito la possibilità di vindicarsi in qualche modo della sconfitta nella finale del torneo di Viareggio. Alla sciorba scenderà infatti la capolista Juventus, fresca vincitrice della manifestazione giovanile. Il fischio d'inizio è fissato alle 11.30. Diretta TV su Sky Sport 1.